Ciao ragazzi, oggi voglio rispondere velocemente ad un commento che mi è arrivato da parte di The Elbas sul mio canale YouTube. Lui mi chiede, ho acquistato un motore 1.9 TDI con 112.000 km dichiarati dal demolitore. Lui sostanzialmente ha aperto la coppa ed ha trovato evidenti tracce di morchie all'interno. Mi chiede se esistono dei prodotti particolari per poter eseguire la pulizia del motore, ovviamente non creando danni allo stesso. Ti rispondo subito The Elbas. Allora, prima di andare a eseguire un lavaggio, io quello che ti consiglio è andare a eseguire una pulizia manuale, quindi andare a pulire bene all'interno coppa e anche nella parte superiore, togliere il pescante, andare a pulire anche quello, controllare la pompa dell'olio se eventuali tracce di morchie lo si trovano anche all'interno, dopodiché tu puoi andare nella parte superiore, togliere il coperchio delle punterie e andare a ripulire anche quella zona. Una volta fatto questo, io ti consiglio di iniziare prima di tutto con un olio e filtro. Fai un olio e filtro, 3-5.000 km, possibilmente correre anche in autostrada. Una volta fatto questo, visionare il filtro dell'olio. Eccolo qui. Gli dai un controllo, vedi se ci sono morchie all'interno, meglio ancora se riesci a togliere anche dell'olio per vedere se ci sono delle tracce grossolane di morchie. Se hai risolto gran parte della cosa, puoi passare a uno step successivo e quindi andare a fare eseguire anche il lavaggio. E per l'occasione ti faccio vedere dei prodotti che sto utilizzando e mi trovo davvero molto bene. Uno è il Rapid Flash, eccolo qui, della Synthoflon, sempre della Synthoflon, le T-Engine Trattament. Allora, questo è un flash. Lo si utilizza praticamente prima di andare a sostituire, di ammettere l'olio nuovo, quindi con l'olio vecchio. Lo si mette all'interno, si fa girare di un 15 minuti e poi si scarica tutto. Questo invece lo si utilizza in un altro modo. Questo lo si mette all'interno e con la macchina ci si corre per 100-200 km, fino a un massimo di 2000 km. Io questo l'ho provato, ho fatto un test estremo e sono riuscito ad arrivare anche a 2000 km con questo all'interno. Ovviamente non lo devi fare tu. Io ho fatto un test estremo per capire anche come funzionava il prodotto e devo dire che avevo un piccolo problema e l'ha risolto in maniera, devo dire, egregia. Mi sono trovato veramente molto bene. Quindi, The Elbas, sostanzialmente, olio e filtro dopo aver pulito tutto. Una volta controllato tutto, puoi decidere se mettere il, fargli un flash oppure eseguire un altro lavaggio su strada con le T-Engine Trattament.